In questa puntata vorrei rispondere a una domanda che ci viene spesso fatta via email, sui social e riguarda i guanti Aridas Predator Pro nello specifico. La domanda è, che differenza c'è tra il modello 2019 e il nuovo modello 2020? Li abbiamo sviscerati tantissimo nel corso dei mesi, delle settimane, abbiamo parlato veramente tanto del modello 2020 con l'importantissima novità dovuta al cambiamento di struttura, all'abbandono del cinturino e alla nuova lavorazione col palmo sagomato. Però restano comunque legati soprattutto al fatto di essere realizzati con la stessa struttura in tessuto, in termine tedesco in knitt. Quindi il corpo, la struttura portante resta la stessa, cambia la vestibilità perché il modello 2020 è molto più fasciante, ha una vestibilità solo apparentemente però più stretta e la mancanza del cinturino fa sì che ci sia una percezione soprattutto mentale diversa rispetto al modello precedente. Modello precedente per il quale ricordo che nelle ultime colorazioni c'era anche la possibilità di rimuovere il cinturino stesso. Quindi c'erano ad esempio, io ricordo, sepe che personalmente tagliava il cinturino e continuava a utilizzarlo senza. Demostrazione del fatto che per alcuni la presenza del cinturino o meno su quel tipo di guanto era assolutamente relativa. O viceversa, abbiamo visto delle immagini su Instagram di qualcuno che utilizzava versione personalizzata col cinturino o addirittura chi, non potendo utilizzare una versione personalizzata, usava il tapping del polso sopra il guanto stesso. Ora, arrivando al sodo, dire quali sia migliore tra il modello 2019 e 2020 non è facilissimo, però ci sono delle valutazioni che si possono fare. Ad esempio, il modello 2019 è un po' più classico, ha una struttura del taglio delle dita sempre negativa, sia sul 2019 che sul 2020, simili. Sebbene nel modello nuovo la lavorazione del lattice sia più bombata e le dita siano più strette. Quindi c'è una differenza, è una cosa che si avverte indossando il guanto, che strutturalmente, concettualmente e fisicamente è un po' più leggero e quindi dà maggiore sensibilità e mobilità alle dita. Resta poi il fatto che qualcuno potrebbe non apprezzare la mancanza del cinturino o qualcun altro potrebbe anche non apprezzare il fatto che il palmo sia sagomato, ma l'atto pratico non cambia nulla rispetto al modello precedente. Sì, ci sono le sagomature, ma per alcuni anzi una cosa positiva. Viene a mancare, questo è un dato che può essere comunque un po' interessante, il rinforzo sulla base del palmo che è stato eliminato. Ultimo aspetto è il rischio di rotture sulla base del palmo che è stato registrato da alcuni all'inizio, all'uscita del nuovo modello. Come dimostrato anche nei video che abbiamo pubblicato, basta fare un po' di attenzione quando si indossa soprattutto il secondo guanto. Facendo un risvolto sul polsino si può infilare il guanto con più sicurezza e quindi evitare che le cuciture della base del palmo soffrano e quindi possano anche lacerarsi e staccarsi. Chiudo. Quindi con la mia opinione personale. Quale preferire tra i due modelli? Io vado per il modello 2020 perché è un'enorme evoluzione, è qualcosa di ben realizzato, sempre perfettibile, e di conseguenza, io lo ripeto, l'ho detto tante volte, magari non lo indosserei perché io preferisco un guanto, a parte che uso le secche, un guanto un po' più strutturato, ma certamente è una novità che tanti altri andranno a cercare di copiare nei mesi a venire. Spero che tutte queste informazioni, anche di carattere personale e soggettivo, possano averti chiarito un po' le idee o quantomeno ti possano aiutare ad avere una tua posizione più dettata dalle informazioni concrete piuttosto che poi su valutazioni estetiche che lasciano il tempo che trovano. Quindi ti ringrazio per avermi ascoltato, che è una cosa che fa sempre piacere, e ti rimando alle puntate che continueremo a pubblicare o anche ad ascoltare episodi già pubblicati. Grazie a tutti!